Una giornata di lavori per indirizzare quello che sarà il futuro dell'economia regionale marchigiana? Sì, il settore agricolo è importantissimo, si inserisce in un quadro più ampio dell'economia delle marche che andrebbe rilanciata anche con delle politiche mirate, soprattutto per le aree interne. Pensiamo al cratere sismico e quindi a tutte quelle aree che hanno subito anche uno shock demografico e quindi andranno messi appunto strumenti coordinati fra i vari fondi, fra i vari strumenti di intervento per ottenere risultati importanti, accettabili e verificabili.